Dopo le parole di Sarri non è terminata la polemica sul formato della Coppa Italia. Lo ricordiamo, il tecnico della Lazio ha definito la manifestazione più antisportiva del mondo. Il formato attuale prevede la presenza di solo 4 squadre di Serie C, oltre alle squadre di Serie A e quelle di Serie B, con 8 teste di serie che partono dagli ottavi, con esiti poi molto prevedibili in termini di risultato. Ma come funziona negli altri paesi? In Spagna una squadra di terza divisione è arrivata agli ottavi, turno in cui si sono dovute fermare corazzate come l'Atletico e il Barcellona. In Inghilterra si è già visto uscire United, Wolves e Leicester, mentre agli ottavi di finale c'è persino una squadra di quinta divisione, il Boron Wood. La DFB pocala tedesca ha visto il Bayern eliminato ai sedicesimi e poi il Dortmund fuori agli ottavi contro il St. Pauli, una delle tre squadre di seconda divisione arrivate ai quarti. Mentre in Coppa di Francia, manifestazione che ha già visto eliminati Paris Saint-Germain, Lione e Marsiglia, una squadra di quarta divisione, il Versailles, è riuscita a raggiungere addirittura le semifinali.